Prima del vertice in prefettura, il ministro dell'interno ha visitato una scuola di Sinai dove ha dialogato con gli studenti sul tema della legalità. In mattinata il fuori programma ad Asseminello per un saluto alla squadra di Ranieri e alla dirigenza Rosso-Blu. Roberta Mocco. Ciao, mi presento, mi chiamo Emanuela Loi, sono nata in una bella isola, la Sardegna in un bel... Tracce di memoria, il corto dedicato alla vita di Emanuela Loi, l'agente di scorta del magistrato Paolo Borsellino morta in servizio nella strage di Via D'Amelio e il fiore all'occhiello del progetto di legalità che impegna da circa dieci anni gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Sinai che oggi hanno ricevuto la visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a realizzare il racconto per immagini gli alunni della Quarta H che oggi si sono confrontati con i responsabili del Viminale sul contrasto alla criminalità, sullo studio della Costituzione e sulla lotta al cyberbullismo. Questo è il nostro istituto, i valori costituzionali e di cittadinanza vengono curati con lo spazio. Mi è arrivato l'invito direttamente dai ragazzi, ovviamente immagino che ci sia stato l'accompagnamento dei docenti. Poi ho saputo la storia di questo istituto e quindi quello che fa come istituzione, quindi questo istituto lavora sui temi della legalità, della sicurezza e della formazione dei giovani in maniera come nessun'altra istituzione può fare di meglio e quindi erano tutti elementi che mi hanno motivato a venire. Nella scuola di Sinai il ministro fa anche un passaggio sulla sua visita in mattinata da Seminello. Mi hanno regalato una maglietta bellissima, la numero 10, e io ho sfidato anche sulle conoscenze di attuale, ho detto vi ricordate del grande Cagliari di Gigi Riva. A chiudere la visita a Sinai del ministro la tappa davanti alla targa dedicata all'agente di polizia Emanuele Aloi.